All'alba di oggi i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Varese e personale della squadra mobile della Questura di Milano, con la collaborazione dei finanzieri di Foggia, hanno eseguito l'arresto di Fedele Sannella, socio di maggioranza assieme al fratello Franco del Foggia Calcio per il reato di riciclaggio. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Milano su richiesta della Direzione Ristrettuale Antimafia, fa seguito all'arresto dell'ex vice presidente Massimo Ruggero Curci, oggi ai domiciliari, e scaturisce dagli sviluppi delle indagini dell'operazione Security, ordinata dai pubblici ministeri Hilda Boccassini e Paolo Storari. Nei giorni precedenti l'arresto, diverse perquisizioni sono state eseguite nelle abitazioni e negli uffici nella disponibilità dei Sannella e presso la sede del Foggia Calcio. Secondo gli investigatori, dagli interrogatori dei fratelli Massimo e Nicola Curci, davanti al pubblico ministero della DDA, sono emerse gravi responsabilità a carico di Sannella che avrebbe ricevuto e riciclato personalmente somme di denaro per un importo complessivo di 378.750 euro in contanti, reimpiegandoli nel Foggia Calcio per pagamenti in nero a calciatori, allenatori, procuratori e per spese relative alla gestione della società calcistica.